I minuti che stavo cercando di parlare ma non riuscivo a parlare Forse perché veramente non hai una personalità e tutti ti vogliono calpestare Magari mostrare un po' più di personalità alle persone potrebbe portarle a rispettarti di più quando le inviti in live Ciao ragazzi sono Maggiocchi Benissimo, ti do solamente Fube, Fube non ridere dai che se non c'hai due puttane a cui dedicare una canzone non vale un cazzo Cioè è inutile ti metti qui a ridere e a stare lì